Un fatto è certo che è finito tutto, un fatto è certo che non mi pensi più, un fatto è certo che ho mille pensieri nella testa, ma quando passo dalle parti tue, tutti gli angoli mi parlano di te, la portiera del 302 mi saluta e sembra chiedermi perché, quando passo dalle parti tue, non sorrido verso quella tua finestra e non entro canticchiando nel buio del portone. L'altro giorno ho risalito quelle scale, ho appoggiato l'orecchio alla tua torta, mi è sembrato di sentire la tua voce e sono scappata via. Quando passo dalle parti tue, spero solo di riuscire ad incontrarti, ma per fingere di non vederti e passarti sotto il naso indifferente, come se non fosse niente, come se non fosse niente.